Sì, ci sono 37 anni dal terremoto dell'Irpinia, nelle zone di Avellino c'è ancora qualcuno che vascula nei container. A Isk, dopo la scossa di quest'estate, non si sono ancora partiti i lavori. Beh, che grande tragedia. Il ricordo è molto vivo a chi ha vissuto quegli anni. Io avevo 13 anni e quell'immagine non la dimenticherò mai per tutta la vita. Purtroppo non è stata solo la tragedia del terremoto in termini di vite umane perse, di feriti e di crolli, ma poi c'è stato lo stato di calamità istituzionale che è seguito a quel terremoto, con sperpero del denaro pubblico, disastri ambientali, scempi urbanistici, criminalità, commissioni tra affari, politica e mafia. E quella lezione negativa non è nemmeno servita, perché anche recentemente in Abruzzo, per quello che accadde all'Aquila, nello stesso Abruzzo più recente e anche nelle Marche ancora non si vede una ricostruzione importante. Così come anche quello che è accaduto ad Ischia. Quindi c'è bisogno che lo Stato investa in maniera forte per la messa in sicurezza del nostro Paese. Messa in sicurezza non significa solo messa in sicurezza da un punto di vista ambientale, da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista degli edilizia, ma anche la messa in sicurezza per la sicurezza da altri temi. Vengo da un comitato provinciale dell'ordine della sicurezza pubblica, di sicurezza e di movida, anche là alla fine ti scontri con le risorse economiche, materiali ed umane che sono poche e che non consentono di avere i mezzi di cui si ha bisogno per fronteggiare temi così delicati.